Domenica 1 settembre c'è un evento di solidarietà da non perdere. A Carpi, Modena, in Piazza Martiri, dalle 10.30 c'è il Festival dei Macellai, a favore del reparto di pediatria dell'ospedale Ramazzini di Carpi. Grandi protagonisti, i Butchers for Children, i maestri macellai. Nell'occasione, artigiani della carne proporranno prodotti locali e specialità regionali. Festival dei Macellai, insieme per ricominciare, a 15 mesi dal sisma. Il primo settembre, in Piazza Martiri a Carpi, Modena.